Allora Mario, Mario Adinolfi, dici si parla troppo di queste famiglie, di famiglie... Si parla di un segmento minimale di una popolazione che è molto ben sostituta da una lobby mediatica forte, ma dello sterminato numero di milioni di famiglie che fanno una fatica infame ad arrivare a fine mese, è molto difficile averle come protagoniste. La donna qui è Monica, che magari è meno glam di Alessia e di Efe Ball, ma è quella che ha messo al mondo i figli e che ha fatto la fatica vera di crescerli ed è bellissima, guardate quanto è bella, quella è una mamma, quella è una mamma, è una mamma vera, una mamma vera, non una chiacchiera, non un effetto dello show business, è in realtà, è carne, sangue, fatica, non orecchini e trucco, capite? E' una cosa diversa, è bellissima, straordinariamente bella, cerchiamo di raccontare un po' di più quello e un po' di meno quello che la lobby ben presente nel sistema mediatico vi impone di raccontare tutte le sere. Ma Alessia e Michele, scusa Mario, scusa Adinofi, ma Alessia e Michele fanno parte dello show business? Ma certo, lì è un'associazione che gli ha compati, l'hanno pure citata, è un'associazione che li ha messi sui, ha fatto i documenti, gli ha fatto il processo e gli fa il cancan mediatico, gli fa i comunicati stampa, ha creato il personaggio, è tutto lì, la verità, mettetela insieme, non mettete me, mettete Angela e Monica, metteteli insieme, uno a e anche all'altro, e vedete, la verità contro qualcosa di costruito, di artificiale, di inesistente in termini reali, dal punto di vista familiare, e la fatica vera la fanno Angela e Monica, solo che la fanno nel silenzio, perché non c'è nessuno che sostiene i loro diritti e i loro bisogni, mentre invece... No, no, un secondo, vi voglio far vedere un servizio, l'abbiamo anticipato prima e torniamo subito dopo a parlarne, guardate.